Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio di Psicologia e Creatività. Torniamo con un nuovo consiglio documentaristico. Dopo l'ultimo in cui vi consigliamo un documentario sul femminile, su un tabù del mondo femminile, questa volta esploriamo sempre tramite un documentario il mondo del maschile. Questo documentario lo potete trovare su Netflix, si chiama Beyond Man and Masculinity e fin da subito mi ha incuriosita perché sulla piattaforma Netflix ho sempre visto documentari sulla storia delle donne, sul femminismo e questo è il primo documentario che mi capita in cui viene indagato l'effetto del patriarcato sul maschile, quindi sui uomini. È un documentario breve che analizza gli effetti psicologici ed emotivi che un determinato stereotipo di genere, quello ovviamente della mascolinità tossica, di una società maschilista, ha sui uomini. Questo cosa comporta? Vengono dati degli elementi molto interessanti da parte di esperti che si occupano dell'argomento e che organizzano anche dei gruppi rivolti a uomini, ma anche vengono intervistate le persone, dei ragazzi, che parlano appunto delle loro difficoltà. Molto interessante vedere appunto come il patriarcato, ovvero una società in cui detiene il potere soltanto l'uomo, biologicamente nato uomo, ha su altri uomini. Gli uomini devono aderire a un certo stereotipo di genere, a una certa rigidità, ecco perché si parla di mascolinità tossica, perché gli effetti della tossicità sono dati proprio da questa rigidità di dover aderire a uno stereotipo, che può essere appunto il non piangere, il non mostrare i propri sentimenti, le proprie emozioni. Molto interessante soprattutto la parte in cui delle professioni si parlano dei bambini e l'infanzia. Quando nascono ovviamente non esistono differenze date dal genere. Ognuno esprime le proprie preferenze, le proprie predisposizioni caratteriali, emotive, i propri talenti al di là del genere, in maniera molto spontanea e molto genuina. Succede che crescendo a un certo punto i messaggi subliminali della società fanno capire a piccoli maschietti che crescono che devono disconnettersi, disconnettersi dalle relazioni e dalle proprie emozioni. Non è vero che i maschietti non hanno competenze relazionali ed emotive o le hanno in misura minore rispetto alle loro controparti femminili, ma il messaggio che dà la società è che è un messaggio performativo di un uomo che non deve chiedere, non deve provare, non deve sentire, non deve anche cercare quella solidarietà, quel sostegno, quella cura, per non parlare di poter dare cura e sostegno emotivo. Ed è qui che nascono le divisioni. Quando le vediamo bene, si trovano insieme nei gruppi maschi e femmine si cominciano a creare i gruppetti dei maschietti contro le femminucce. Questa divisione, che potrebbe essere un gioco, in realtà sta ricreando delle dinamiche che i bambini hanno visto, che gli sono state dette, anche nel gioco. ricreano in realtà la società e come ci si debba comportare in questa società, quali giochi bisogna scegliere, con chi si può parlare, con chi no, chi è il mio compagno fedele e chi invece è il mio rivale. E' importante questo aspetto perché vediamo fin da subito come l'influenza della società spinga, prema da una parte o dall'altra a esprimere in un determinato modo il proprio genere. Come dicono appunto gli studiosi, come vi ho detto anche nel video che parla di teorie di genere, il genere è performativo, quindi si esprime nella società esibendosi, no? Ed è per questo che la disconnessione è un concetto molto importante e quindi penso che sia proprio questo il punto da cui partire a interrogarsi per poter superare la tossicità di un determinato stereotipo. Il riconnettersi quindi alle relazioni, alle proprie emozioni, permette anche di saperle riconoscere, gestire e quindi elaborarle in maniera ottimale, efficace e anche adattiva. Detto ciò io vi consiglio quindi questo documentario di cui vi ho detto soltanto una piccola parte delle mie riflessioni, ma è molto interessante, si trattano altri temi, non solo il genere ovviamente biologico ma anche l'identità appunto si va oltre il genere, ci si interroga sulla pressione della società su chi è di genere maschile e debba quindi aderire a un determinato stereotipo. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!